Macabro ritrovamento nella campagna, ai confini tra Cerveteri e Manziana. In una strada poco frequentata, le guardie ecozofile e fare ambiente hanno trovato nove cani simil Segugio italiano, di cui due adulti e un cucciolo, ormai privi di vita. Purtroppo, a distanza di poche ore, i volontari hanno ricevuto un'altra segnalazione, rinvenendo a poca distanza altri tre cuccioli deceduti e abbandonati in una piazzola di cemento. Ovviamente gli animali erano privi di microchip e pertanto al momento non è stato possibile risalire al padrone. La mente umana, si sa, spesso può partorire gesti squallidi, al limite della vergogna, tuonano le guardie ecozofile intervenute sul posto. Ora sono in corso degli accertamenti e siamo in attesa dell'esame autoptico da parte dell'Istituto Zoo Profilattico. Sarà sporta denuncia contro ignoti. Rivolgiamo un appello accorato a chiunque possa fornire informazioni utili affinché si presenti presso la polizia locale di Cerveteri. Garantiamo l'anonimato. Concludono i volontari.